Uno degli obiettivi del progetto Genome è quello di creare un luogo, un laboratorio d'incontro tra la ricerca italiana e la ricerca internazionale. A questo scopo Genome ha creato tre tipologie di progetti da finanziare. Un progetto Gold che prevede fino a 50.000 euro di finanziamento. Un progetto Silver che prevede un finanziamento fino a 25.000 euro dei progetti ospite e un progetto Bronze che prevede l'analisi dei dati dei progetti ospiti a prezzo di costo. Tutti i progetti invece godono della collaborazione dei ricercatori che partecipano a Genome per quanto riguarda l'analisi dei dati, l'interpretazione dei dati e poi la pubblicazione dei risultati. Abbiamo fatto un bando e abbiamo ricevuto 12 progetti proposti da ricercatori di sette nazioni diverse. Questi sono stati prima valutati internamente dal comitato scientifico del progetto. Sette di questi si sono risultati coerenti con gli obiettivi di Genome e sono stati affidati per la valutazione, per il ranking, per una classificazione, a un gruppo di ricercatori che sono indipendenti dal progetto. In funzione dei punteggi che sono stati dati dagli esperti sono stati scelti tre progetti, due Gold, quindi con finanziamento sia delle analisi sia della visita, diciamo, del ricercatore esterno ai laboratori Genome, e un silver, quindi un finanziamento dell'analisi senza costi di copertura della visita. Il primo progetto Gold è stato vinto dal professor Gerry Tero dell'Università del Missouri, che ha in atto una collaborazione con... è già nata una collaborazione con l'Università italiana, l'Università di Camerino, sullo studio di un'anomalia genetica dei bufali italiani, quindi una specie che in Italia è molto importante. I bufali italiani sono affetti da una malattia genetica che influenza lo sviluppo degli arti, che si chiama emimelia, e che è a una frequenza abbastanza elevata. È una malattia che è controllata da un singolo gene, quindi una malattia che noi chiamiamo mendeliana, e che il professor Taylor propone di identificare, quindi identificare la mutazione responsabile della malattia attraverso un sequenziamento massiccio di animali sani e animali malati. E questo progetto è in corso. L'identificazione della mutazione responsabile dell'anomalia genetica permetterà da un lato la selezione contro questo gene malato, quindi i portatori di questa malattia non verranno fatti riprodurre. Dall'altro lato permetterà anche una comprensione migliore una volta identificata la mutazione e il gene responsabile che porta a questa mutazione, capiremo meglio la biologia dello sviluppo embrionale, soprattutto i meccanismi molecolari che portano allo sviluppo degli arti. Il secondo progetto è sempre un gold, è stato proposto da Hassan Khatib dell'Università di Wisconsin, ed è un progetto invece questo sulle pecore. Sulle pecore il professor Khatib ha già fatto una parte della sperimentazione negli Stati Uniti e ha studiato come diete diverse date a delle pecore possono influenzare lo stato epigenetico degli feti durante lo sviluppo. Per adesso ho studiato nove geni in un paio di tessuti prelevati dai feti. Ha proposto al genome di ampliare questo studio, cioè utilizzare gli stessi tessuti, ma studiare non più l'epigenetica di nove geni, ma di tutto il genoma di questi animali. Il terzo progetto è stato proposto da Stephanie McKay dell'Università del Vermont e riguarda anche in questo caso l'epigenetica, l'epigenetica di un animale, in questo caso un bovino, Dominet, che è l'animale che ha donato il genoma di riferimento alla comunità scientifica internazionale. In questo caso lo studio prevede, lo studio dell'epigenoma, di tre tessuti, i tre tessuti più importanti per le produzioni animali, che sono il muscolo, la mammella e il fegato, per poter creare una mappa epigenetica di questi segnali epigenetici, che sono segnali che sono sopra il genoma, che influenzano l'espressione dei geni e quindi il fenotipo degli animali e le produzioni degli animali, nell'animale di riferimento, che è quello che è stato sequenziato. Con questa iniziativa dei progetti ospite e della creazione di questo Gene Home Resort vogliamo quindi incrementare le relazioni internazionali del progetto e dei ricercatori che partecipano al progetto, scambiare idee con i migliori ricercatori di tutto il mondo, far crescere i nostri giovani e portare, insomma, idee, risorse anche con altri progetti internazionali ai ricercatori italiani.